Dalla scuola calcio del Corona alla Serie A con il Mozzanica, Alessia Cappelletti ha 18 anni e fa il portiere. Con la squadra bergamasca disputa la massima serie italiana di calcio femminile e ha già partecipato a due stage della Nazionale Under-19. A giocare ha iniziato presto, quando ancora frequentava la seconda elementare. Da allora non ha più smesso e con il passare degli anni, nonostante i tanti sacrifici, è riuscita a togliersi grandi soddisfazioni. Mi ha fatto avvicinare al calcio mio papà che giocava nel Corona ai tempi e io mi sono incuriosita a vederlo correre, vederlo giocare col pallone. E allora ho iniziato subito dopo con la scuola calcio del Corona e mi è da subito piaciuto, non ho più smesso. Così come la passione per la porta e per lo stare in porta che mi è accaduto per caso perché un giorno nessuno durante la partita voleva stare in porta, allora io mi sono proposta e da lì non ho più smesso. Dopo il Corona, il passaggio al calcio cremona femminile, categoria giovanissime, nella stagione 2012-2013. Un campionato che le ha permesso di mettersi in mostra, tanto da essere convocata nella rappresentativa regionale Under-15. Il torneo delle regioni è stato una vetrina che ha attirato l'attenzione di Giuseppe Lussana, dirigente e osservatore che ha voluto Alessia Mozzanica nella formazione primavera. Proprio con la primavera, lo scorso giugno, ha disputato una finale scudetto. Nel frattempo è arrivata la chiamata anche in prima squadra, dove fa la riserva della più esperta Alessia Gritti. Infine sono arrivate le due esperienze con la nazionale Under-19, lo scorso autunno, con tanto di trasferte all'estero, prima in Olanda, poi in Macedonia, per le qualificazioni agli europei di categoria. Giocare una finale primavera è stato molto emozionante, tra l'altro era molto coinvolgente, sono stata davvero contenta. Anche l'esordio in Serie A è stato molto vissuto, è stato bellissimo. Comunque giocare poi è andato anche bene, abbiamo vinto e quindi non potevo chiedere di meglio. E anche l'ultima convocazione nazionale è stato davvero un bel coronamento a tutti gli sforzi e a tutto il tempo che ho dedicato a coltivare la mia passione. Cremonese doc, Alessia frequenta l'ITIS e quest'anno dovrà sostenere gli esami di maturità. Conciliare la passione per il calcio con lo studio non è facile, ma l'amore per lo sport è più forte di qualsiasi sacrificio. Facendo quattro allenamenti è dura perché devo partire alle cinque, torno tardi, tutto deve coincidere con gli allenamenti anche del papà. E quindi è tutto da incastrare bene, però ce la faccio, studio nel tempo libero e in un modo o nell'altro riesco a tenere insieme tutto. Anche perché il calcio è l'unica cosa che mi dà qualcosa di vero e mi sento veramente bene quando sto in campo e sarei una stupida a non coltivare quello che mi piace e quello che mi rende felice.